Ciao, 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 dolcissimi e dolcissimi, ciao sono Giulio Junior, mi presento, mi chiamo Giulio Junior, ho tre mesi, ho gli occhioni vispi, sono un amore, mi piace stare tra le gambe della mia mammina, mi piace morsicarla e vedete che morsichi, mi piace dormire sopra le gambe della mia mammina, il mio cibo preferito è il latte, lo prendo dalla siringa il latte perché sono vagabondo a mangiarlo nel piattino, preferisco più quando me lo dà nella siringa, mi piacciono i croccantini, la mortadella, il salame, il profutto tutti insaccati, mi piace il riso, mi piace la pasta, mi piace tutto, i miei posti più assurdi dove mi nascondo sono mi nascondo, nel cartone, sotto il mobiletto, nel mocio, sopra il mocio dove si gira, quella quella farina che si gira, che si mette la mazza, si gira e mi metto lì, dormo dentro il secchio, mi piace dormire sugli strofinacci della pezza di polvere, poche più, mi piace giocare con la mia mammina, mi piace mozzicarla e fare il duello con lei. Sono piccolino, solamente tre mesi, ma mi sono affizionata la mamma e sono il vostro nuovo beniamino del tubo, quindi io sono giulio junior, per gli amici e per le amiche junior, se mi volete chiamare giulio è uguale, però preferisco che mi è giulio junior, capito? Io, la mia mammina mi ha insegnato a rispondere, capito? Sì, vedete quanto è bello, quanto date da 1 a 10, oppure da un milione a 20 milioni di voti, lasciate il messaggio qua sotto, sono lasciato lì il messaggio qua sotto, e noi rivediamo al prossimo episodio.